La Commissione Sanità della Fondazione Onlus Isola d'Elba, con il patrocinio del Servizio Sanitario della Toscana, dell'azienda sanitaria nord-ovesta, ha elaborato un progetto di prevenzione del fumo passivo. Se fumi tu, fuma anche il tuo bambino, che avrà una durata triennale dal 2016 al 2019. Si tratta di un progetto innovativo, dice la coordinatrice della Commissione, Maria Luisa Chiappa, perché incentrato sul bambino. Un messaggio di dolcezza e non di violenza. Per informare sull'iniziativa sono stati organizzati due eventi. Venerdì 4 novembre al Centro Culturale dell'Augè, dalle 16.30 alle 19.30 e sabato 5 novembre dalle 8 alle 14 all'Hotel Airone. Quello del 4 novembre è un incontro con la cittadinanza, avverrà al dell'Augè, 16.30-19.30 e qui presenteremo il progetto. Ma qui i protagonisti sono tre ragazzi. Noi relatori ruoteremo intorno a loro. Per quanto invece riguarda il progetto del 5, sabato mattina sarà l'Hotel Airone. Questo invece è un convegno, quindi ha una caratteristica più tecnica, più specialistica, ed è rivolta alla, diciamo, individuazione per poter inviare a gruppi di mutuo aiuto antifumo. Abbiamo fatto in modo tale che per medici, medici di medicina generale, pediatri di famiglie, infermieri, ostetriche, farmacisti e psicologi venissero dati i crediti formativi ECM. Mentre è aperto a tutti quegli operatori che hanno piacere di partecipare, in particolare insegnanti, assistenti sociali, logopedisti. È gratuito.